Tra i problemi maggiori per la nuova linea del tram Patavino c'è il passaggio nella zona ospedale, nota per essere spesso congestionata. Il convoglio, lasciata la fermata a Morgagni, attraversa in lunghezza tutta via Falloppio fino a via Giustiniani. Qui il tram sostituisce la prima rotonda del suo percorso che sarà trasformata in un incrocio con semaforo. Poco più in là l'arrivo davanti all'ospedale con la fermata omonima, proprio dove ora ne esiste una per autobus. Mantenuti i posti dei taxi e la pista ciclabile cambierà però la disposizione della carreggiata con due sole corsie per senso di marcia riservate alle automobili. Al pronto soccorso si potrà accedere attraverso la corsia dedicata al tram. Dopo la fermata ospedale il convoglio prosegue quindi verso Volta Barozzo. L'attraversamento di via Gattamelata è forse il punto più critico dell'intera linea del nuovo tram perché qui dove adesso c'è una rotatoria in futuro dovrà essere installato un nuovo semaforo ed è quindi ragionevole pensare che i flussi di traffico saranno molto complessi da smaltire. Forse su questo incrocio si potrebbe ancora lavorare cercando una soluzione che non implichi di strozzare via Gattamelata con un semaforo anche se le alternative non si prospettano economiche. Superata la rotonda il tram si avvia verso il rione Forcellini.